Si avvicina a grandi passi la gara inaugurale del primi europei di calcio in versione itinerante venerdì 11 giugno, saranno Italia e Turchia ad aprire le danze, allo Stadio Olimpico di Roma fermano i preparativi mentre trappelano le prime notizie ad accogliere i tifosi, saranno due leggende del calcio di Roma come Francesco Totti e Alessandro Nesta, campioni del mondo nel 2006 a Berlino, sopra loro due circa 16.000 spettatori presenti sugli spazi sfreccerà la squadra acrobatica delle frecce tricolori, speciale countdown sui maxischermi dell'impianto capitalino e sulle tv di tutto il mondo, un viaggio con ricordi ed emozioni di 60 anni di storia di questa competizione continentale per nazionali, si partirà dalla prima edizione quella del 1960 disputata in Francia e vinta dall'allora Unione Sovietica che in finale superò la Jugoslavia, poi spazio alla banda musicale della polizia di Stato in divisa storica, eseguirà una canzone classica di un famoso compositore italiano, nel frattempo 24 palloncini a simboleggiare i paesi partecipanti sfideranno al fianco della guardia d'onore della polizia a cavallo, a portali in scena ballerini e giovani atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro. I palloncini lasciati liberi voleranno in cielo e muniti di uno speciale sistema motorizzato saliranno e scenderanno in sincronia con la musica. L'atto finale vedrà la presenza del tenore Andrea Bocelli.